Sta invadendo i nostri mari, è il granchio blu originario delle coste occidentali dell'Oceano Atlantico, presente dagli Stati Uniti al Brasile. Importato erroneamente e rilasciato in porto attraverso le acque di zavorra delle navi. Nel mar Mediterraneo ha trovato le condizioni ideali per riprodursi e per fare qualche danno, specialmente agli allevamenti di cozze, ma non solo. Sicuramente è un animale, un alieno, quindi è un animale che si sta introducendo in maniera anche un po' violenta all'interno del nostro habitat. Appunto avendo questa riproduzione così veloce potrebbe soppiantare alcune specie di crostacei che sono presenti nel nostro mare. Adesso è ancora presto per dire quali, però insomma sono allo studio ovviamente sia la diffusione di questo animale sia quelli che sono i danni a livello ambientale. Comunque i rischi al momento ci sono? I rischi al momento ci sono e quindi insomma noi da oggi abbiamo anche una piccola vasca per raccontare appunto di questo animale e soprattutto di come possiamo aiutare il nostro ambiente a liberarsene. La soluzione al momento è soltanto una, forse la più classica. Se ne stanno pescando veramente tanti, la cosa positiva è che comunque è una specie commestibile, molto popolare negli Stati Uniti e sicuramente potrà essere apprezzata anche qui da noi. Anzi, mangiarlo aiuterà anche a salvare il mare.